salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi andiamo a parlare di un sensore di temperatura e umidità che si autolimenta da pannello solare l'idea di meros è il modello lms100 di realtà fhhk ma noi lo chiamiamo ms100 per semplicità prima di continuare però mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto a voi non cambia niente a noi ci da tantissimo in più andate sul nostro sito www.fattoradasolo.it per tante altre recensioni su prodotti smart il sensore smart di temperatura umidità meros ms100 misura e monitora accuratamente i livelli di temperatura e di umidità in casa fornendo dati in tempo reale consentendo il monitoraggio remoto per un ambiente di vita confortevole e sano si integra con l'app meros e supporta l'integrazione con tante altre piattaforme di smart home come amazon alexa google assistant e home kit di apple passiamo altresì a dire che possiamo anche integrarlo in home assistant tramite l'integrazione home kit o tramite l'add-on meros lan andiamo però a vedere prima di tutto la confezione l'estetica come sappiamo è ben curata da meros mostrandoci un'immagine realistica del prodotto e le integrazioni dello stesso troviamo sul retro le specifiche del prodotto che analizzeremo a breve all'interno della confezione troviamo oltre al sensore anche lo smart wifi hub necessario ovviamente per la configurazione del sensore un cavo micro usb della manualistica sull'installazione e configurazione e udite udite anche un alimentatore da 5 volt a un ampere per lab che invece in realtà ne necessita solo 500 milli ampere il sensore ms 100 è realizzato in abs bianco con un design rotondo e minimale 56 x 56 x 18 mm permettendo che venga installato in qualsiasi ambiente abitativo in modo discreto la precisione e l'affidabilità di questo sensore sono dovute al sensore di alta precisione integrato di quarta generazione che meros ci tiene a far sapere che è stato prodotto proprio in svizzera inoltre l'ms 100 è fornito di una modalità dual power ossia alimentazione con luce ambientale e la batteria una cr24 77 3 volt la scelta eco friendly in quanto sfruttando il pannello solare integrato nelle ore diurne possiamo alimentare il sensore mentre nelle ore serali l'alimentazione sarà fornita dalla batteria sotto i 150 lux il sensore verrà alimentato esclusivamente dalla batteria mentre 350 e i 150 lux l'alimentazione è prevalentemente da batteria ma già in parte in realtà è fornita dal pannello solare al disorvo dei 350 lux invece l'alimentazione è prettamente da luce ambientale quindi funziona integramente con il pannellino fotovoltaico pertanto si considera ad operare questo sensore in ambienti illuminati per quanto riguarda invece le funzionalità il sensore ha un range di temperatura che va dai meno 10 ai 50 gradi e invece tra lo 0 e il 95 per cento circa l'umidità relativa il sensore comunica solo ed esclusivamente con il suo hub senza il quale non riusciremmo mai a leggere i rilevamenti la connessione tra questi è a 433 megahertz mentre per quanto riguarda la connessione tra l'hub e la rete wifi di casa che dovrebbe rispettare lo standard a 2,4 gigahertz viene proprio tramite comunicazione wifi per effettuare il pairing dell'hub c'è un pulsante apposito presente sull'hub stesso che dobbiamo premere a questo punto parliamo proprio della configurazione di questo device per configurarlo correttamente la prima cosa da fare ovviamente è rimuovere il film protettivo sul pannello fotovoltaico ed installarlo verticalmente seguendo la freccia riportata sul retro diamo poi corrente all'hub tramite l'alimentatore il cavo e apriamo l'app di meros da smartphone assicuriamoci di avere un buon segnale wifi e che il nostro smartphone o tablet abbia un sistema operativo abbastanza recente dopodiché premiamo lungo il pulsante per poter effettuare il pairing assicuriamoci pure che il led presente nell'hub lampeggi di colore verde arancione quindi che si alternino vuol dire che è pronto per il pairing la procedura ovviamente guidata ci chiederà di inserire l'SSD e l'avastro dell'area di wifi ma comunque è abbastanza semplice arriviamo poi al punto della configurazione del sensore per poterlo configurare all'hub premiamo il tastino di reset una volta sola appena compare il led verde sarà pronto per il pairing con l'hub nel complesso la procedura di pairing dura qualche minuto alla fine possiamo anche dargli un nome associare il sensore ad un ambiente e ovviamente consultare i dati non solo in real time ma anche consultare lo storico che può essere giornaliero settimanale mensile e anche annuale una volta che sarà ultimata la procedura di pairing possiamo gestire il nostro device non solo dall'app meros ma associarlo anche ad alex google assistant apple home kit ma quello che interessa a noi a questo punto è associarlo ad home assistant e vediamo come fare home assistant rileva automaticamente il dispositivo che possiamo configurare tramite home kit o tramite meros lan entrambe le procedure sono automatiche ma il risultato è differente con home kit possiamo monitorare temperatura umidità del sensore e basta per quanto riguarda l'integrazione invece con meros lan oltre a monitorare temperatura e umidità possiamo conoscere lo stato della batteria regolare la sensibilità del sensore sia in temperatura e umidità e lato hub possiamo accendere e spegnere il led integrato e conoscere anche la potenza del segnale wifi quindi niente male con questo concludiamo il video di oggi fatemi sapere se vi è piaciuto fatemi sapere le vostre impressioni noi ci vediamo prossimamente con altri contenuti un abbraccio allora ciao 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 ciao